buonasera a tutte amiche buonasera a tutti amici bentornati e bentrovati nel canale di aldo angeli così in ordine sparso cominciamo subito in base ad alcune cose che ho sentito nei vari canali nelle varie trasmissioni ecco anche il punto di zodiac no sento dire che anche da molti commentatori scrivano il mostro di firenze si sarebbe ispirato a zodiac ma non lo so potrebbe essere anche il contrario secondo la storia il mostro di firenze per dirla con le parole di pierluigi vigna il primo duplice delitto è del 21 agosto del 1968 dice vigna i primi omicidi attribuibili a zodiac sono del dicembre del 68 quindi zodiac arriva quattro mesi dopo il mostro di firenze è anche vero è anche vero che le prime lettere di zodiac vengono inviate mi pare nell'agosto del 69 è sempre il primo agosto o giù di lì del 69 tre lettere da parte di zodiac a dei quotidiani o non so che quindi l'uno potrebbe anche essere stato ispirato dall'altro però la longevità criminale spetta chiaramente al mostro di firenze quindi se il mostro di firenze e zodiac fossero la stessa persona se si riuscisse a dimostrare questo allora si potrebbe cominciare a parlare effettivamente di assassino dei due mondi se venisse dimostrato chiunque esso fosse se venisse dimostrato quindi ci sta però che il mostro di firenze abbia potuto prendere ispirazione dal zodiac per le lettere come poi comporrà la lettera dell 85 al di là dei riferimenti trovati dietro le lettere che farebbero riferimento all'acqua dico a parte quelli la lettera in sé come è stata composta per la dottoressa silvia della monica potrebbe anche essere ispirata dalle lettere di zodiac magari però ecco secondo me sono due erano due persone ben distinte e separate se qualcuno riuscisse vi ripeto a dimostrare che chi ha ucciso nel 68 è la stessa persona che ha ucciso poi nel dicembre del 68 negli stati uniti io mi togliere il cappello diretti è ancora sarebbe un collegamento non da poco no credo 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 poi questo è un discorso che volevo fare qualcuno mi ha detto sempre in merito a vigna e pacciani forse scusate mi sono spiegato male io forse qualcuno non ha ben capito e a volte magari nella fuga di spiegare le cose si spiegano male quando io ho detto no come faceva vigna a sapere quando ha cominciato a mettere sotto indagine pacciani che nessuno avrebbe colpito che l'assassino il reale autore dei duplici delitti non avrebbe più colpito e qualcuno mi ha detto facile no dice aldo se era pacciani una volta individuato come faceva a uccidere dico sì l'obiezione è giusta ma tu dimentichi che l'indagine su pacciani comincia quando lui era in galera in galera in galera e quindi dopo l'85 la perquisizione del 19 settembre 85 pacciani viene lasciato quieto no passa l'86 passa l'87 pacciani è in galera ma ancora non indagano su pacciani per il mostro pacciani è in galera per le figlie nell'88 viene condannato pacciani per le figlie ma non è ancora indagato per il mostro ancora l'indagine per il mostro va avanti all'esterno del carcere dove si trova pacciani giusto nell'89 comincia l'indagine poi su pacciani che si trova in carcere e ne esce solo nel 91 il 6 dicembre in questo lasso di tempo qui che pacciani era in carcere e che era cominciata l'indagine a suo carico e lui si trovava in galera come facevano gli inquirenti ad essere sicuri che il reale autore che non era chiaramente pacciani non potesse più colpire avete chiaro ora il quadro no mi auguro di averlo spiegato bene no l'indagine su pacciani avrebbe avuto un senso se lui si fosse trovato all'esterno del carcere cioè se l'indagine su pacciani fosse cominciata effettivamente su di lui quando lui si trovava in libertà come poteva essere nell'85 dopo la perquisizione invece che poi lasciarlo quieto gli inquirenti avrebbero detto ciao pacciani e invece no e invece lo mettiamo sotto stretta indagine subito nell'indagine subito nell'85 invece no l'hanno messo sotto indagine quando era in galera nell'89 indaghiamo su pacciani cerchiamo elementi su pacciani mentre lui è in galera gli andranno a fare anche delle perquisizioni in carcere a trovare che non si sa riviste porno in carcere vedrai che devi trovare in certi ambienti trovi anche armi nel lucciardone nel carcere lucciardone di palermo quando c'erano i mafiosi i pasti arrivavano dai migliori ristoranti della città per dire queste sono storie vere andatevele a leggere che cioè vi si apre un mondo ecco di quello che può succedere nelle carceri ok però per pacciani no stavamo dicendo che speravano di trovare nella perquisizione in carcere a pacciani nulla poi gli faranno delle perquisizioni in casa con gli avvocati presenti va bene ma pacciani è in galera è in galera e questa arma non c'è non esce fuori quindi vuol dire che non ce l'ha a pacciani e allora come faceva vigna ad essere tranquillo nell'ottantanove cominciando l'indagine su pacciani senza temere che vero chi di competenza potesse tornare a uccidere come mai voi non dovete pensare al pacciani quando era fuori dal carcere dovete pensare che l'indagine su di lui è cominciata quando era dentro al carcere pacciani e per cominciare un'indagine su pacciani mentre pacciani è in galera vuol dire che tu inquirente hai le certezze che l'assassino non colpirà mai più io non so chi gliel'abbia detto immagino che si siano imbattuti in questa persona a seguito poi del duplice delitto degli scopeti dall 85 in poi lo abbiano individuato verso l'86 nell'87 vigna andava in televisione a fare quegli appelli che non riguardavano neanche quelli pacciani il familiare operi sul suo caro eccetera pacciani era in galera quindi con chi parlava vigna a seguito poi di tutti questi accadimenti passano all 88 e si inizia tranquillamente 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 l'indagine a carico di pietro pacciani con tanto di proiettili nell'orto con tanto di elementi che vengono sequestrati dopo ve l'ho già detto come lo schizza in brunen ecco qual era la domanda per fare tutto questo per creare questo vestito di imputato o futuro imputato addosso a pacciani dovevano essere sicuri che chi aveva realmente ucciso fino al settembre 85 non colpisse più e come potevano saperlo è un fatto ma sono più di uno come torniamo al discorso quello dell'inchiesta pacciani viene arrestato a seguito del proiettile schizza in bruno in porta sapone altri indizi e verrà portato a processo a processo gli viene contestato di essere quello che è un assassino per il 51 un violentatore delle figlie già scontate la pena tutti i testimoni che vanno a dire ho visto pacciani 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 tutti i testimoni degli anni 90 hanno visto tutti i pacciani negli anni 90 se lo so ricordato e in più e in più no e in più le armi non ci sono non ci sono non ci sono pacciani allora come dovrebbe essere l'assassino però secondo la l'accusa lo è spietato in irriducibile la furia no la furia che uccise nel 51 è la stessa furia che ha colpito il povero già michel kraviccivili nel 85 nell 84 di questa furia di ampinana se ne accorta nessuno e in più l'assassino seriale unico no pacciani mica ha fatto direttamente menzione la procura vigna canessa della lettera con le ambo di seno no e l'assassino seriale unico pacciani ma la lettera lasciamo perdere l'ha rammentata ogni bene un po sta lettera perché c'era c'era no la lettera l'ha rammentata ogni bene dice parliamolo un po ma è strano che non gliela contesti direttamente all'assassino seriale unico pacciani dice però non mai presentato neanche le armi quindi posso capire ogni bene ragazzi è stato un ottima un ottimo presidente di di corte imparziale eh devo dire quindi no che cazzo di accusa è all'assassino seriale unico talmente convincente no era convinta anche talmente la procura che dice sai che aggiungiamo i complici dunque volendo osservare le cose anche dal punto di vista della colpevolezza di pacciani vagni e lotti non torna ma non che non torna perché io non la voglio far tornare perché l'assassino seriale deve essere per forza un uomo interno allo stato no perché un giorno potremmo scoprire una verità completamente differente che il mostro di Firenze fosse che ne so in realtà un meccanico che è sempre rimasto nel suo isolato appassionato di armi ma non aveva l'arma compatibile con i duplici delitti quindi non è mai stato controllato ma essendo appassionato di armi aveva imparato a modificarle proprio il calibro 22 sto fantasticando e nel corso del tempo questo meccanico ha ucciso tutte queste 16 persone rimanendo nell'anonimato più assoluto per dire potrebbe essere anche questa verità un giorno che ne sappiamo noi però osservando quella che ci viene prospettata anche a volerli vedere colpevoli e non torna e ve l'ho già detto ora compacciani si rifugiano sui complici lotti che aveva tutti questi segreti ora vi sto parlando di lotti per la sua reale posizione processuale quella di testimone inizialmente poi re confesso imputato lotti è andato a parlare negli anni 90 con gli inquirenti sì scusate come gli chiedono anche a processo allora che cos'è poi che l'ha convinta a parlare lotti quando si è presentato in procura cioè si è presentato l'hanno convocato come amico del pacciano per sommare informazioni no come conosce pacciani e che carattere ha se tra di voi c'è stato mai capito le domande di rito mettiamola così e lotti sempre stato tranquillo ha risposto alle domande se avesse avuto questo peso gli dire cazzo ti vengono a chiedere proprio i pacciani no sono passati ormai cinque anni inizialmente stai un po sul vago sì lo conosco non lo conosco però tu sai chi ha ucciso cazzo a scopeti lo sai secondo la storia e non lo dice lotti di fronte al dottor canessa una volta convocato sarei crollato avrei detto guardi dottor canessa al di là della conoscenza sì che ho col pacciani io l'ho visto ammazzare nell 85 cazzo ti viene a dire una cosa simile lotti porca puttana prima di andare a processo pacciani cioè negli anni 90 lotti ti dice una cosa simile cazzo canessa avrebbe avuto tutto il tempo di fare i suoi approfondimenti dire l'ottima è sicuro di quello che sta dicendo perché guardi io sto procedendo proprio contro facciani per i duplici delitti se lei mi dice che l'ha visto uccidere nell 85 mi dica tutto quello che sa se era da solo con chi era lotti a questo punto la obbligo a dirlo no dottor canessa avrebbe avuto tutto il tempo di accertare le parole dell'otti negli anni 90 eh vi sto dicendo avrebbe tirato lui in mezzo il pucci e quindi anche pucci avrebbe avuto modo di dire le cose e canessa avrebbe potuto bagliarle negli anni 90 e prima di andare a processo canessa avrebbe avuto in mancanza dell'arma proprio però cazzo a questo punto dice il problema canessa dice il problema delle armi ce l'avevo già prima però a processo ce lo volevo portare comunque ora però ho due testimonianze negli anni 90 che mi dicono possiamo anche fare ricerche in merito all'arma semmai lotti e pucci avessero vi capite si sarebbe sviluppata tutta un'altra storia anche con pucci lotti vanni quello che volete o addirittura vi aggiungo in quella convocazione del 1990 lotti oltre a dire ho visto ammazzare nell 85 facciani avrebbe potuto aggiungere anche vanni che che non era solo no era con vanni e il procedimento nel 1994 poteva svilupparsi in maniera del tutto diversa con pacciani e vanni già insieme a processo accusati da lotti e pucci che però a quel punto sarebbero stati solo testimoni perché questo non è successo prima quando il dottor canessa conosceva benissimo tutti questi personaggi su ne aveva i fascicoli cioè a voglia fai i discorsi perché non è successo tutto questo allora prima negli anni 90 ma lotti ha deciso di svuotarsi la coscienza solo cinque anni dopo e guarda caso a cavallo del processo di appello a pietro pacciani dunque se le dichiarazioni dell'otti che sono state rese poi negli anni 95 96 fossero state realmente dell'otti perché non riferirle negli anni 90 mentre si stava imbastendo il processo pacciani anche lotti per quanto tardo capiva che veniva convocato perché gli inquirenti stavano indagando su pacciani allora a quel punto se l'avevi visto ammazzare nell 85 dirlo no e c'è no guarda caso a lotti e anche appucci e anche alla ghiribelli sono venuti in mente questi discorsi a cavallo del processo di appello per pietro pacciani madonna bona nel primo grado non si è fatto vivo nessuno eh di questi qui solonesi ha cominciato a apparire due volte due singolare anche che è un test no il presidente dica che abbiamo oggi pubblico ministero e oggi abbiamo il test Lorenzo Nesi un'altra volta o ne è venuto ieri l'altro e che viene tutti i giorni qui Nesi non sa proprio che fare come mai qui perché il presidente ci tiene a chiarire delle circostanze ah va bene sentiamolo buono no poi altri testimoni che non sono mai stati sentiti neanche una volta tipo che ne so buttiamo a caso la moglie ed il fratello di spalletti quelli mai mai le cinesi due volte anche questo è singolare in un procedimento penale su è singolare che non sia stata accolta la lista dei testi della difesa di Pietro Pacciani parole queste dell'avvocato Alessio Fioravanti se avete qualcosa da dire scrivete a lui quindi è singolare no il tutto o no ma quali Pacciani e Vanni e Lotti ma per piacere ma basta guardarci dentro a questi procedimenti penali però ha detto ora se voi continuate a seguire tutta la storia per come l'ha voluta poi improntare giuttare no in base alle parole dell'otti il dottore e poi vado alla ricerca di questi fetici per quelle cose delle donne allora cioè se si vuol proseguire su questo sentiero quello che poi è stata un'indagine investigativa nel senso sui mandanti sulle sette quello che è però allora vi dovete chiedere anche voi porca di una puttana troia zozza come dico sempre perché nel processo Pacciani questo argomento non è stato minimamente toccato com'è che la pubblica accusa il dottor Paolo Canessa quando accusava Pietro Pacciani di essere l'autore dei duplici delitti non gli ha mai contestato nulla in questo senso per le scissioni che Pacciani le facesse per poi procurare questi fetici per il dottore non è mai uscito un discorso del genere dal processo Pacciani no mai mai per Pacciani non c'è mai stato il discorso dell'esoterismo c'era il discorso della sua psicopatologia attribuita non si sa da che da vigna il seno sinistro della Miranda Pugli lo scriverà anche ogni bene in sentenza che Pacciani era ossessionato dalla Miranda Pugli c'è scritto ma mica è vero che ne sapeva ogni bene abbiate pazienza e dunque non c'è nessun riferimento né a dottori nel processo Pacciani né all'esoterismo né alle sette ai riti non c'è niente le idee che aveva il difensore di Pacciani cioè l'avvocato Pietro Fioravanti sulla matrice satanica quello è un altro discorso io sto parlando dell'impostazione della pubblica accusa se non ve ne siete accorti da quando io ho cominciato a fare i miei video che riguardano Pacciani Vanni e Lotti mi sono sempre basato chiaramente sulle argomentazioni della pubblica accusa riprendendo poi le argomentazioni della o delle difese degli imputati la pubblica accusa non ha contestato nulla di esoterico a Pacciani nel procedimento successivo si va alla ricerca di questi mandanti allora già da qui dovete capire che il discorso è fallace quando Lotti diceva di questo dottore di questo non dottore gli avrebbero dovuto chiedere scusi eh ma quale dottore e dottore nell'ottantadue avete fatto escissioni no nell'ottantatré avete fatto escissioni no e a questa setta che cazzo gli avete portato non vi hanno licenziato dopo due tentativi andati a vuoto mentre che aspettavano i fetici se fosse stata vera la situazione delle sette del dottore dei mandanti tre rincoglioniti come Pacciani Vanni e Lotti sarebbero andati ad aggredire delle donne sole sole servivano eventualmente i seni o il pube per fare questi riti nell'idea di Michele Giuttari eh mica la pippi di fave e allora perché Pacciani Vanni e Lotti si sarebbero dovuti a rischiare per procurarsi un seno o di un pube avrebbero dovuto aggredire delle coppie col maschio pure vicino sarebbero andati ad aggredire delle donne sole inermi portando questi macabri reperti alla setta ogni volta che la setta gli avesse richiesti tanto nell'82 che nell'83 che nell'84 che nell'85 che negli anni precedenti sempre aggredendo donne sole Pacciani Vanni e Lotti non avrebbero avuto alcun problema di reperire questi fetici da consegnare poi alla setta o al dottore vedete che è un discorso del cazzo proprio che contrasta nettamente con le indagini con le indagini mica con le mie idee con le indagini che sono state percorse precedentemente con il processo che si è sviluppato precedentemente tutto è un'altra storia eh è normale è tutto regolare a voler credere alla colpevolezza di Pacciani Vanni e Lotti come posso crederci in base a questi discorsi qui mettetevi anche nei panni di una persona che va oltre i procedimenti penali e scusate anche chi crede onestamente alla colpevolezza di Pacciani Vanni e Lotti ti dico lascia perdere l'idea dell'uomo dello Stato che quelli sono cazzi miei ma non ti viene il dubbio che la vicenda Pacciani Vanni e Lotti possa essere stata anche questa per esempio un gigantesco errore giudiziario no neanche il dubbio viene erano loro e basta ma gliel'ha detto io mi batterò sempre fino a che avrò vita per dire che non è così anche se non frega un cazzo a nessuno fondamentalmente e non perché io voglia essere ostinato perché non mi torna non mi torna non che io non voglia Pacciani Vanni Lotti come colpevoli non è questo non mi torna il modo in cui li hanno portati a processo non mi torna sarò libero di dire che non mi torna perché non torna un cazzo ecco perché e non accetterò mai quella sentenza striminzita che viene tanto sbandierata c'è la sentenza ma se io fossi un parente delle vittime mi sarei incazzato di brutto di fronte a una sentenza simile e che facciamo a chi è figlio e chi figliastro che modo è stato di risolvere una vicenda criminale così grave i duplici delitti che sono rimasti insoluti diceva beh Pacciani è morto se no sarebbe stato certamente condannato lui ma che ne sai innanzitutto innanzitutto poi anche se fosse stato condannato Pacciani come sempre si dice allora Pacciani sarebbe stato condannato per tutti i duplici delitti come abbiamo sempre ribadito essendo lui l'escissore di tutti i duplici delitti non avrebbero potuto cambiare il capo di imputazione in corso d'opera non è che siccome c'era il procedimento vanni e lotti in corso allora il capo di imputazione a di Pacciani veniva ridotto eh no eh il processo vanni e lotti era in corso come complici se Pacciani non fosse morto e nel 98 si fosse celebrato il nuovo processo di appello la sentenza per Pacciani sarebbe arrivata prima del processo a carico di vanni e lotti se fosse stata una sentenza di assoluzione sarebbero stati dolori se fosse stata una sentenza di condanna a carico di Pacciani sarebbero stati dolori uguale perché di fronte alla condanna di Pacciani come assassino serale unico per tutte le escissioni allora il procedimento a carico di vanni che cazzo lo fai a fare vedete che sarebbe stato un mescolone in qualsiasi caso sarebbe stato un mescolone che non sarebbe mai potuto tornare ecco perché quella sentenza tanto sbandierata non spiega nulla non spiega nulla di nulla di nulla ti spiegherebbe solo che lotti ha visto che vanni avrebbe scisso nell'84 e nell'85 nell'82 e nell'83 vanni non ha fatto assolutamente nulla se non girare per le piazzole spaisato ubriaco con il coltello in mano ma tanto non poteva scendere quindi ecco quella è la storia no e poi avremmo dovuto aspettare il processo pacciani che ci avrebbe dovuto dire se pacciani sparava o non sparava se la pistola non c'era prima e non sparava prima non avrebbe sparato neanche dopo pacciani ha voglia che lotti dice torniamo sempre lì ci sarebbero stati confronti eventualmente tra pacciani lotti sarebbe stato un casino come sono stati questi procedimenti penali un casino giuridico bene o male accettato dalla giustizia italiana dalla corte di cassazione ma non torna nulla non mi convincerete mai che questi sono procedimenti ben fatti assolutamente ma neanche per nulla perché non lo sono chiunque sostenga il contrario è libero di sostenerlo ma sostiene un obbrobrio giuridico perché questo sono i procedimenti pacciani e i procedimenti vanni un obbrobrio giuridico perché vanno gli uni contro gli altri imbastiti dalla stessa procura guardate bene la stessa procura che nell'ottantadue prende l'eredine diciamo della storia con piero luigi vigna che fa indaga prima sul gruppo dei sardino questa è tutta storia della vicenda del mostro di firenze sono tutti anni di indagine anni di mezzi impiegati anni di carte anni di tutto non sono cazzate quelle che vi sto dicendo è la vicenda del mostro di firenze le altre sono cazzate che non c'entrano nulla con la storia del mostro di firenze nell'ottantadue la procura vigna cominciano a indagare sul gruppo gruppo dei sardi clan dei sardi poi si convincono che non va bene giustamente vanno alla ricerca dell'assassino seriale unico dall'ottantaquattro in poi ottantacinque sviciano pacciani appena appena poi c'è pacciani ci rivediamo nell'ottantanove va bene si rivedono nell'ottantanove con pacciani e indagano su pacciani intanto ripetono pacciani è in galera c'è l'indagine come cazzo faceva vigna a sapere che l'assassino reale non avrebbe più colpito è un mistero comunque proseguono l'indagine su pacciani lo portano a processo come assassino seriale unico però durante il processo no si accolgono che forse non ci siamo allora che fanno tornano al gruppo il gruppo dei briachi dei toscani dei puttanoni i frequentatori di puttanoni no questa prostituta molto signora comunque lasciamo aperte tornano al gruppo gli inquirenti eh la procura vigna dall'assassino seriale unico dal gruppo passano all'assassino seriale unico per poi tornare al gruppo poi non basta vanno alla ricerca di quello che non avevano mai osato cercare neanche prima altri gruppi di persone altolocate di sette dimandanti cazzo se la guardate per quella che è stata l'inchiesta del mostro di Firenze da parte della procura della repubblica di Firenze non sto dicendo da parte degli uffici istruzione da parte della procura della repubblica di Firenze è stato un guazzapuglio come quello che vi ho appena detto dal gruppo all'assassino singolo poi al gruppo poi alla alla setta ai mandanti e tutto quanto sono indagini che se ci fate caso si contraddicono con se stesse e mica le ho promosse io quelle indagini quindi come cazzo fate a dirmi che è stato tutto normale voi se volete stare a disquisire no sulla norma della sentenza sulla virgolina sul verbale di vent'anni fa tanto non torna nulla voglio che fate i discorsi legittimi fate bene a farti quando poi vengono fatti in tranquillità con educazione vi ripeto io nel mio privato io dialogo con tutti con persone che ritengono zodiac l'assassino seriale e con persone che hanno idee sulla pista esoterica su persone che ritengono ancora oggi lotti facciare vanni colpevoli io dialogo con tutti bisogna vedere come una persona si pone io non ti impongo mica nulla il mio canale è libero se lo vuoi guardare lo guardi se non lo vuoi guardare non lo guardi non ti ho mai detto che io ho ragione e tu torto questo canale la pensa in questo modo ha torto certamente sarà a torto o ha ragione chi lo sa no è questo è il discorso di questi pensieri che volevo condividere al volo con voi e così come ho cominciato così finisco grazie per l'attenzione e per la pazienza